Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma ho dovuto lasciare la seduta. Buonasera a tutti, saremo rapidi, scusateci sin d'ora, però abbiamo l'aereo. Inizia Calicchia, Roma TV. Eccomi. Abbiamo visto in questi giorni si è parlato molto di turnover. In giro per l'Europa anche altre squadre hanno fatto turnover. Luis Enrique ne ha cambiato i 6 con il Barcellona, il Manchester City 4 ha anche cambiato modulo. Chi ha vinto, chi ha perso? C'è quindi una regola per il turnover? Ma no, è anche il risultato delle squadre che hanno fatto molti o pochi cambi mostrano che non c'è regola. Il problema non è il turnover, il problema è di giocare abbastanza bene per vincere. E su questa cosa potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo dove siamo stati troppi lunghi, ma non torniamo sulla partita di domenica perché quella che conta ovviamente è quella di domani. Come ha trovato la squadra, come ha trovato lo spogliatoio dopo il pareggio con il Sassuolo? La squadra abbiamo fatto video subito la mattina dopo la partita, ha visto le cose che ha fatto bene perché abbiamo anche fatto delle cose positive. Siamo tornati due volte sul risultato, ho recuperato due volte il risultato, abbiamo fatto un buon secondo tempo e hanno visto nel primo tempo le cose che era possibile non fare per vincere. Solo questo e adesso non è che abbiamo il tempo di piangere su una partita che è già passata, ci dobbiamo concentrare sulla prossima perché è solo quella che conta. Come ho detto, a partire dal momento dove perdiamo punti in casa, vanno recuperati in trasferta, sarà il nostro obiettivo di domani. Mangiante Sky Sport Buongiorno Può dirci che con le condizioni di Rudiger si ha qualche problema fisico e se ritiene che eventualmente sia pronto per tornare a giocare dal primo minuto a Castano o se eventualmente c'è dei rossi come con la Juventus? Ma Rudiger ha preso una botta, l'abbiamo fatto allenare a parte, non so se penso o spero che sarà convocabile ma non lo so, non ho avuto neanche il tempo di passare dai medici ma subito la conferenza stampa lo saprete con la lista dei convocati. Val di Serre E dopo abbiamo Castano, abbiamo Giomber, abbiamo De Rossi che ha fatto bene contro la Juventus e non c'è Antonio le possibilità ci sono, le soluzioni ci sono. Val di Serre, il Corriere della Sera Volevo chiedere se nella sua carriera di allenatore le era capitato altre volte di mettere quattro giocatori destri nella linea di difesa, tutti e quattro, e se allo stesso modo invece in attacco non può essere un piccolo limite avere molti mancini, per esempio contro la, giocando soprattutto il 4-3-3, per cui in tutta l'ampiezza del campo lei ha usato Salah, Iturbe e Iago Falca, cioè tre mancini tutti e tre. Una domanda interessante, non me la sono fatta ma è semplice di rispondere, dipende di chi gioca davanti o indietro anche questi giocatori, penso soprattutto per gli attaccanti esterni d'attacco, non è un problema che Mohamed Salah sia mancino che gioca a destra come lo può fare Iturbe o Iago Falca perché uno possono anche segnare entrando sul blu, loro piede forte ma serve ovviamente indietro un tersino che può attaccare e portare ai cross, cosa che possono fare tutti i tersini che ho in rosa. Sulla difesa centrale è più comune di giocare con due destri che con due mancini, due mancini si vede poco ma due destri si vede tanto perché un centrale mancino è una cosa rara. Stoppini, la gazzetta dello sport. Salve mister, volevo chiederle un pensiero sulle dichiarazioni dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, ha detto che il pareggio con il Sassuolo sostanzialmente l'unico colpevole è Rudy Garcia, volevo chiederle se aveva un pensiero su questa cosa qui. Non ho nessun pensiero, lascio a ognuno la responsabilità delle loro dichiarazioni, non è che mi fermo a guardare chi ha detto qualcosa su che cosa, non è importante, io guardo avanti e avanti è mercoledì. E' nessuna volontà di drammatizzare naturalmente, le partite sono tante, però la classifica si sta già allungando quindi ogni risultato diventa importante. Volevo chiedere se lei in questo momento, non difficile ma insomma delicato, sente ad avere il pieno supporto della società e se lei stesso personalmente con la rossa che ha si sente in dovere di dover raggiungere dei successi, di mostrare qualcosa. Non è che la stagione si ferma la quarta giornata, non è che devo dire che partite abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatto delle buone e ne abbiamo fatto delle meno buone ovviamente, ma bisogna essere tranquillo, lavorare con calma. Cosa che facciamo con la squadra, essere motivati, cosa che siamo con la squadra, essere giudicati su, se non è sulla stagione, almeno su un momento più lungo che oggi. Ma essere quarto con otto punti, con due vittorie e due pareggi, aver vinto contro la Juventus e aver pareggiato contro il Barcellona in Champions League, non mi sembra catastrofico. La cosa che importa, perché è solo questo che conta, è di fare una grandissima gara domani e di fare il tuo per prendere i tre punti. Dopo, tre giorni dopo, ci sarà il Carpi in casa, dovremo andare a Borisov e dopo chiuderemo la striscia andando a Palermo. Dopo questa striscia forse potremo avere già un avviso un po' più acuto della situazione. Per il momento siamo come il ciclista, la testa bassa e pedaliamo, pedaliamo al massimo per prendere più punti sia in campionato che in Champions League, è solo la cosa importante. Buon pomeriggio. Lei dopo la partita con il Sassuolo ha parlato di uno squilibrio fisico tra alcuni giocatori che hanno giocato contro il Barcellona e quelli che poi hanno giocato contro il Sassuolo. Le chiedo una spiegazione su questa sua affermazione, se è dovuta a un problema di preparazione generale o se alcuni giocatori non si sono fatti trovare i pronti. È per questo che riflettiamo e soprattutto per questo che lavoriamo tutti insieme lo staff. Non è che vi dico delle cose senza aver parlato prima con tutte le componenti dello staff. L'ho detto dopo la partita, ho trovato alcuni giocatori, sì, in mancanza di ritmo, non bene sul piano fisico. Ma forse è questo il problema, di non aver fatto abbastanza partite per alcuni dall'inizio della stagione per farsi trovare pronti. E allora il problema avrebbe potuto essere prolungato se non avevo fatto il turnover adesso, era ancora peggio per chi entra dopo con una cosa obbligatoria. Che adesso gioco sempre con gli stessi, c'è un infortunio e chi entra è difficile per essere pronto. Per questo che riflettiamo, sì, sui tempi di gioco, ripeto che è una rosa e che è normale fare appello alla rosa. Chi deve essere pronti, sì, deve tenersi pronti. E noi riflettiamo a fare la migliore preparazione possibile per questi giocatori. Ma non c'è niente rivoluzionario, sono cose del quotidiano per noi. Parisi, Centrosuono Sport. Buon pomeriggio, mister. Sono qui. Buon pomeriggio. Senta, esattamente un mese fa iniziava il campionato. Si sarebbe mai aspettato di stare a meno quattro dalla vetta dopo solo quattro giornate? E questo distacco è più merito dell'Inter o demerito della Roma? Grazie. Beh, è merito di chi ha fatto punteggio pieno. E lo sappiamo perché durante due prime stagioni l'abbiamo fatto almeno durante cinque giorni. E sempre la classifica, chi è davanti, ha dimostrato di essere più bravo. Ma su quattro giorni veramente sono poche per dire che il campionato è già chiuso, che il distacco è irraggiungibile. Perché che dicono allora le 15 squadre che sono indietro di noi? No, niente. La classifica per il momento conta forse più sul piano psicologico che sul piano dei punti. Ovviamente che più vinciamo delle partite e cerchiamo sempre di farlo, più abbiamo punti e più raggiungiamo la vetta della classifica. Per questo che sono arrabbiato di non aver vinto contro il Sassuolo perché era la possibilità di fare nove punti su nove e soprattutto, lo sappiamo, quando si fa una striccia di tre vittorie allora si fanno o dei balsi nella classifica o un distacco più importante con le scuole che sono indietro. Ecco la delusione di domenica. Adesso non c'è più da parlare da questa partita, c'è da parlare da quella di domani perché non abbiamo parlato neanche della Sondoria e purtroppo mi sembra che è una conferenza stampa per preparare la gara di domani. Rossomando delle radio stereo è l'ultima. Forse? Salve mister, se vuole dire qualcosa sulla Samp. Sì, per favore. Se vuole, ovviamente può dire anche che partita si aspetta dalla Samp, però io volevo chiederle una curiosità su Castan. Sì. Perché Leo gioca un mese fa la sua unica partita con la Roma ma poi non l'abbiamo più visto. Ecco, le chiedo cosa è successo, se sta meglio, se ha visto dei progressi in Castan, se ci potrà un po' spiegare insomma il perché non l'abbiamo più visto ultimamente. Per me è tutto normale, tutto logico. Un giocatore che non ha giocato da un anno, con l'entusiasmo, si fa trovare forse pronto prima, ma dopo c'è sempre un momento dove è un po' più difficile sul piano fisico. Per il giocatore e per Leo succede solo questa cosa e dopo c'è anche concorrenza. Soprattutto voglio mettere Leo nelle migliori condizioni e lo facciamo lavorare ovviamente dall'inizio della stagione e piano piano migliora, ovviamente. Lui è un giocatore importantissimo per noi, avrà il suo spazio, ma meglio per lui giocare quando sarà al 100%, si avvicina piano piano, tutto tranquillo, tutto normale. Grazie a tutti. Grazie. E Sampdoria domani? No, in caso che non lo sapete. Alla scherzo, grazie a voi. Grazie. Grazie.